Siamo con la professoressa Garavaglia oggi per parlare del volume la sostenibilità della salute 2030 ecco di cosa tratta già il titolo dice molto perché è la sostenibilità della salute quindi non si parla solo dei conti dei fondi della possibilità di finanziare un sistema complesso ricco prezioso in continua evoluzione la salute è molto noi parliamo oramai di One Health vuol dire che ci deve essere un'organizzazione di strutture servizi e professionisti dediti alla sanità e anche un contesto che il pubblico organizza mettendo insieme le risorse migliori pubbliche e private per creare anche le condizioni ambientali di sostenibilità Grazie per la visione! Ciao!